Sono Ado Shemya, Samat Shemya. Oggi visitiamo Zagabria Monumenti Storici, Corazia Capitale, Samat Shemya. Certo. Ok, eccoci qua, siamo arrivati. Zagabria Monumenti Storici, Corazia Capitale. Certo. E noi siamo stati le persone, Samat Shemya. Certo. Oh, è un cavallo di cavaliere. Certo. Dai, andiamo. Eccoci, siamo Zagabria e la Capitale Corazia. Oh, oh, oh. Ah, 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 ah. Oh? Oh, oh, ah, 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 ah. Oh. Voglio fare solettico. Ah. We wish you a merry Christmas, 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 a visitare Zagabria e la capitale Corazia. Certo, certo. Corazia. Certo, certo. Corazia. Oh, my God! Oh, my neck! Oh, my God! Brian! Don't touch me! Don't touch me! Call somebody! We need one of those boards they use for football players! Hey, what's going on? Nothing. I just figured out why cats are better than babies. That's kind of a broad statement.